Buongiorno a tutti, abbiamo parlato delle partite di playoff di serie B, adesso mercoledì vedremo come andranno le partite di andata delle due semifinali, ma adesso veniamo alle notizie odierne. Naturalmente farò due video come ho fatto anche l'altro giorno e nei giorni precedenti perché le notizie sono tante e quindi partiamo subito con la Juventus. Juventus primi contatti con Romagnoli, quindi le notizie che vedevano questo teorico scambio Rugani-Romagnoli stanno continuando a prendere sempre più fondamento, quindi attenzione che la Juve viene a fare la spesa a Milano, sponda Inter, sponda Milan, scambi vari, naturalmente a loro favore, perché è normale, e quindi attenzione che oltre che rubacchiare, anche se ci sono altre notizie, potrebbe rubacchiare Picardi dandoci a noi Higuain, cosa che non ci piace per nulla, potrebbero anche andare a rubacchiare pure Romagnoli al Milan dando di Lugani, quindi capite che sono scambi che fanno molto male, molto molto male. Poi, vabbè, stasera c'è Italia-Olanda, ma ne parliamo nel prossimo video, comunque vi anticipo che Mancini ha detto che l'attacco sarà Belotti-Insigne, quindi Balotelli partirà dalla panchina anche perché ha giocato le partite precedenti e quindi vuole anche provare un po' gli altri. Poi abbiamo le dichiarazioni di Gagliani, ce ne sono diverse, non le ho stemperate, diversificate nel mio video, che dice di essere stato vicinissimo a Sarri. Attenzione alla battuta, è stato vicinissimo a Sarri, attenzione Sarri è libero, non vorrei che il povero Gattuso si ritrova da un giorno all'altro a tornare ad allenare i ragazzini perché il Milan va a prendere Sarri, che ricordiamoci non ha trovato l'accordo con il Chelsea, quindi è uccell di bosco disponibilissimo. Infatti, proprio per quello che stavo dicendo, proseguono le indiscrezioni che vedono Blanc sulla panchina del Chelsea, ormai sembra lì 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 per firmare il contrattino con i Blues. Vedremo se Abramo, Gilic e Blanc si trovano il punto d'incontro e si fa questo sposalizio, tra virgolette, con il Chelsea. A me, francamente, Blanc non è che fa impazzire per il Chelsea, non vorrei che faccia peggio dell'anno scorso. Poi abbiamo le dichiarazioni di Brozovic, che dice di sposare la causa nerazzurra, volere rimanere assolutamente in nerazzurro. Ripeto, se il Brozovic, che vuole restare in nerazzurro, è quello che abbiamo visto nell'ultima metà del campionato, ma ben venga che resti all'Inter. Ma se deve fare, come al solito, il lavativo per 20 partite su 38, se non di più, è meglio che vendiamo lui. Io sono ben felice se Brozovic resta, ma se è il Brozovic che ho visto nelle ultime 15 partite, più o meno. Se è quello che ho visto negli anni in cui è stato all'Inter 2 o 3, adesso non mi ricordo, ben qui, ha fatto sempre il lavativo dai tempi di De Boer, che l'ha messo anche in castigo. In poi, io Brozovic, via, pussa via, brutta Bertuccia. Però se gioca come sta giocando, come ha giocato fino adesso, è un signor giocatore, me lo tengo bello stretto. Proseguiamo, perché abbiamo il Villareal, che dopo le dichiarazioni di Baca, che dichiara tutto il suo amore per il Villareal e di voler restare, giustamente il Villareal bussa al Milan, dice, signori, noi il Baca ce lo teniamo anche volentieri, però ci fate lo sconticino, adesso vedremo se il Milan gli farà o meno lo sconto. Poi abbiamo un Atletico Madrid che è lì, come un avvoltoio, a vedere che intenzioni ha il Milan con Suso, se lo vuole vendere, non lo vuole vendere, se lo vuole tenere o non lo vuole tenere, perché loro, qualora il Milan lo dovesse vendere a un prezzo naturalmente abbastanza umano, ben volentieri se lo portano a casa. Poi abbiamo un Dejan Stankovic che dichiara che non ha alcune intenzioni di fare l'allenatore, perché non è proprio nelle sue corde, quindi proseguirà a fare il dirigente, adesso non so dove è finito, con noi ha fatto molto bene, poi ha preferito andare altrove. Poi il Napoli è lì pronto a fare anche lui l'avvoltoio e rubacchiare a tutti quanti i badeli della Fiorentina, che sembrava dovesse andare al Milan o alla Lazio, dove dobbiamo andare, e invece sembra che anche Badeli vada al Napoli. Intanto la Juventus, visto che comunque con i cardi potrebbero esserci problemi con la Vandanara, potrebbero esserci problemi con la tifoseria, che magari non è molto contenta che prendano i cardi, visto che è interista, ma è di vendere i guaine e tutto quanto, eccetera, sta pensando di andare a prendere Lewandowski del Bayern Monaco, non so se come rinforzo o in sostituzione o di Guaib, che magari lo vendono appunto a 50-55 milioni e fanno cassa, oppure di Mandzukic, che appunto sembrerebbe che anche lui non è proprio certo di rimanere alla Juventus. Poi abbiamo la notizia che non è una notizia, cioè praticamente è Young Lee che fa un blitz segreto a Milano, però praticamente è una notizia che hanno divulgato tutti, è venuto a Milano, adesso mi hanno detto che è già ripartito per Hong Kong, però è arrivato a Milano, probabilmente ha lasciato giù i 10 milioncini e è ripartito. Vediamo un'altra dichiarazione di Balotelli che ammette che non essere stato convocato per così tanto tempo dalla Nazionale, non è che lo ha reso molto felice, anzi, tutt'altro, gli è mancata veramente la maglia azzurra. Io mi auguro che nelle prossime partite continui a fare il Balotelli e non lo sbalotelli, quello che si faceva espelle, ramonire, eccetera. Ripeto, a me piacerebbe se lui fosse un attimino più felice di giocare a pallone, sia per la sua Nazionale che naturalmente per la squadra che lo prenderà, perché vederlo sempre lì scazzato, svogliato, eccetera. Poi si impegna e ci mancherebbe quando decide di segnare, come abbiamo visto l'altro giorno, ha preso, si è guardato intorno, ha tirato gol. Però un po' più di allegria, dai, su. E infine l'ultimissima dichiarazione, poi chiudiamo questo primo video, è di Gagliani che si dichiara dispiaciuto per il Milan. Ma sarà vero? O gli cresce il naso modello Pinocchio e per un po' non si fa vedere finché non gli torna normale? Boh, vedremo, chi lo sa. Ciao!